Chi può definirsi bioregionalista? Chiunque può essere bioregionalista nel luogo in cui vive, nella pratica dell'ecologia profonda, del vivere cercando di essere in sintonia il più possibile col mondo che ci circonda, in un modo in cui pur sentendosi liberi non si ha bisogno di provocare danni all'ambiente, cercando quindi di riportare a quell'equilibrio fra l'uomo, l'ambiente e gli altri esseri viventi, che negli anni è stato più o meno inconsapevolmente stravolto. È molto importante secondo me che anche nei rapporti con gli altri si tenga sempre presente questo spirito. L'ecologia diventa profonda quando è una pratica costante della vita, come un sottofondo profumato, e non viene dimenticata mai, evitando di lasciarsi andare alla superficialità, alla falsità, al consumismo. La pratica bioregionale richiede un cambiamento radicale nello stile di vita e non è una professione ideologica. La sua attuazione presuppone una radicale modifica nel proprio stile esistenziale e nell'approccio generale verso l'habitat, gli animali e il resto della comunità umana. Siccome il bioregionalismo e l'ecologia profonda si praticano nel territorio in cui si vive, ci si riconosce idealmente con qualsiasi altro raggruppamento che persegue la pratica bioregionale e che opera in qualsiasi altra parte del mondo. Ma non esistono veri e propri dettami o regole operative comune a tutti. Non c'è una Bibbia da seguire, poiché ogni bioregione ha le sue proprie qualità e richiedono specifico approccio. Per questa ragione ci si riconosce in una rete operativa e non in un movimento ideologico. Certamente si condividono le informazioni e si cerca di dialogare e di informare, ma questa operazione viene fatta ad ampio raggio. Quando si scoprono temi affini da affrontare ci si incontra e si discute in un cerchio di condivisione, dove non ci sono posizioni gerarchiche, ma solo presenze intelligenti e attente. Sia bioregionalisti il momento in cui si comprende si vive sapendo che tutto ciò che ci circonda è noi stessi. Per condividere questo spirito ci si incontra di tanto in tanto per insaldare i nostri propositi ed esprimere proposizioni e cercare soluzioni utili alle comunità. Uno di questi incontri si terrà a Treia, in provincia di Macerata, il 27-28 aprile 2024 e di cui prossimamente vi daremo informazioni più dettagliate. Per informazioni potete comunque chiamare ai numeri 0733 21 62 93 oppure 333 60 23 090. Paolo D'Arpini